ciao ragazzi bentrovati in un nuovo video allora a qualcuno di voi ha fatto ridere il video sugli annunci strambi quindi ho deciso di farne un altro avendo trovato comunque altro materiale per questo genere di video adesso vi porto qualche altro annuncio strano delle cose che trovo sul facebook marketplace quando faccio le mie ricerche per vedere se riesco a trovare qualcosina di carino e mi imbatto in questi annunci andiamo allora questo per quanto mi riguarda potrebbe essere già un goti vende le cannucce state in plastica a 280 euro prezzo non trattabile e mi sembra già un prezzo buono e questo già è un buon annuncio molto troll ma secondo me è carino ve lo volevo far vedere questo addirittura vende una bellissima pc gamer a 800 euro che a conti fatti costa meno che la fidanzata cioè questo ti da 800 euro tutto il pacchetto e se non c'è più niente da spendere o un abbonamento a vita potrebbe convenire lui vende una playstation si commenta da solo no ottimo prezzo acquistano subito asus monitor 19 pollici solo vga 4 vga 4 40 euro un monitor da 19 pollici solo vga ma acquistano subito notebook hp va bene così no è sufficiente questo più che fa ridere mi è sembrato molto carino questa persona cerca un camper e giustamente piuttosto che scaricarsi un'immagine da google immagini ha fatto la sua rappresentazione di un camper niente carino mi piaceva e niente ragazzi anche per questo video siamo arrivati alla conclusione spero di avervi rubato due risate io quando li ho visti mi sono piaciuti sti annunci e niente noi ci sentiamo la prossima volta ci vedremo la prossima volta e niente enjoy